Zip News Speciale Meteo Temperature stazionarie massime tra 11 e 15 gradi Al sud cieli serene o poco nuvolosi ovunque, salvo locale variabilità su Puglia e Appennino senza piogge Temperature in rialzo massime tra 10 e 14 gradi È tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez Zip News Le notizie nel modo più veloce